Abbiamo parlato di abiti, abbiamo parlato di gioielli, abbiamo parlato di pellicce e adesso parliamo di un altro accessorio indispensabile per la donna, parliamo di borse e a parlarci appunto di borse e del suo brand Nero Neve con noi la stilista Selena Ney. Selena, parlaci un po' del tuo brand Nero Neve, quando nasce? Nero Neve è un nuovo brand italiano che nasce proprio dalla passione per il connubio tra fashion e tecnologia perché le nostre iBag nascono proprio da questo concetto di funzionalità e di un aspetto e un'estetica molto cool, infatti se potete anche vedere all'interno la particolarità è proprio questo spazio per l'iPad che può essere anche utilizzato in varie posizioni e la borsa comunque sia sempre un aspetto che è tipico e abbiamo avuto una particolare importanza proprio per l'aspetto del made in Italy perché sono fatte interamente a Firenze da artigiani italiani e quindi la qualità è stata anche un aspetto fondamentale per il nostro brand Nero Neve e di conseguenza per le nostre iBags che vengono anche prodotte in vari colori e con vari stili per donne anche diversi diciamo. Parlaci invece adesso un po' delle borse che hai realizzato per questo evento. Per questo evento trattandosi proprio della bandiera nazionale chiaramente mi sono ispirata al colore diciamo tipico della bandiera quindi abbiamo creato una borsa che è verde più con frange quindi più con un look urban style potremmo dire con questo anche più divertente e la rossa invece diciamo segue più questa eleganza classica diciamo della classica donna italiana e invece come gran finale diciamo per una sposa un po' più anche provocatoria e tecnologica come vuole per tradizione diciamo nel live fashion proprio questa borsa che è bianca proprio specifica per una sposa che si vuole anche un po' divertire e provocare allo stesso momento insomma con un aspetto anche un po' romantico chiaramente. Progetti futuri? Progetti futuri sono chiaramente di continuare di presentare anche diciamo quello che saranno le nostre nuove linee da uomo e anche diciamo una borsa per il computer in generale per cui le donne possono avere la possibilità di sfruttare al massimo diciamo la borsa sia sul lavoro ma anche per il viaggio per anche se stesse cioè nella vita quotidiana mantenendo il loro stile sempre molto fashion e molto di moda diciamo. Selena allora per tutti i nostri amici che vogliono avere maggiori informazioni su tutto ciò che tu realizzi e quindi come possono fare per contattarti? Possono trovare le nostre ibags di Neroneve sul sito chiaramente www.neroneve.it oppure contattarci anche tramite la nostra mail info chiocciola neroneve.it. Grazie. Prego la ringrazio. Grazie a tutti.